Dopo varie segnalazioni da parte dei residenti della zona di Boccarena, stiamo parlando oggi con il Presidente del settore giovanile del Comitato Pro Boccarena, proprio in seguito a queste segnalazioni e a queste lamentele, una zona che sembra essere lasciata all'abbandono, come possiamo anche vedere dalla pensillina dietro di noi. Quali sono le richieste da fare al Sindaco? Assolutamente che prenda in condizione il fatto che i cittadini segnalano notevoli problemi. Noi abbiamo fatto la nostra segnalazione e io invito i cittadini di stare sereni perché il Sindaco e il Comune lo sa e nessuno ha abbandonato questo quartiere, né tantomeno chi lo rappresenta, perché appunto noi teniamo molto al quartiere dove noi abitiamo, dove siamo nati. Quindi tutto quello che abbiamo risentito anche sui mezzi di computer, di Facebook, abbiamo detto comunque che i tempi sono stati già segnalati e faremo il nostro meglio affinché sollecitiamo appunto una sistemazione immediata del problema che sono le pensiline, ma anche delle problemi di illuminazione che purtroppo è fatiscente. Quindi quanti sono gli abitanti, appunto le persone che abitano in questo quartiere? Sono tante, molte abitano qui sia in inverno che in estate? Sì, il quartiere si popola soprattutto l'estate perché è un quartiere residenziale dove appunto migliaia di cittadini hanno la villetta estiva, però anche d'inverno abbiamo appunto persone che sono presenti sul territorio, abitano qua e insomma i problemi sono sovrastanti, abbastanza, sia dal punto di vista del trasporto urbano che anche appunto della pubblica illuminazione, dall'attesa dell'autobus che non viene, però stiamo cercando di poco a poco di risolvere questi problemi, nessuno ha abbandonato nessuno e quindi appunto cercheremo di trovare delle soluzioni per appunto tamponare queste problematiche.